Ha fatto un po' migliore del tuo. Ma spero non l'ha assaggiato ancora. Ancora non l'ha assaggiato, ma già come... Già è una truffa, già è una truffa. Ha visto la preparazione, capito? Tifosi del Napoli appassionati di caffè, bentornati in questa sfida. Caffetto Oraldo ha invitato due nostri campioni a confrontarsi in una sfida a colpi di tazzine e quindi chi farà il caffè più buono tra Pasquale Mazzocchi e Amir Rachmani? Ciao. Allora Paco, tu sei napoletano, quindi le aspettative sono altissime. Giusto così. Sai fare il caffè con la moca? Sì. Amir, tu hai delle chicche per fare il caffè, lo sai fare? Non l'ho mai fatto. Però magari la fortuna del principiante oggi potrebbe andare bene ad Amir. Quindi ragazzi, io vi lascio alle macchinette. Pronti? Via! Facciamo insieme, eh? Io ti guardo da te. Oh, se perdo con Amir è giusto che lascia il ritiro, eh? Eh, guarda. Lo dico. Eh, vuoi, eh? Anche io se perdo lascio il ritiro. Fino a qua è facile. Questo è il trucco. Oh, ma che fai? Eh, frate. Oh, deve essere pulito. No, a Napoli devi sporcare quando fai il caffè. Già perso. Non posso perdere, è impossibile. Ci siamo, ci siamo, ho visto la preparazione. Allora, Pasquale, tu hai sporcato tantissimo, però hai detto che... A Napoli si sporca quando si fa il caffè. Siamo d'accordo. L'importante poi è recuperare la posta rimasta. Da noi si è portata alla polizia. Ok. Ti ho sentito dire, ho già vinto. Che cosa hai notato nella preparazione? Ho detto, io ho già vinto. Lui! Che cosa hai notato nella preparazione di Amir che non ti ha convinto? Eh, ho visto che ha schiacciato il caffè, non si schiaccia. Che sono bruci. Vediamo dopo. Attenzione. Vediamo dopo. Allora, ragazzi, io a questo punto direi portate le macchinette sul fuoco e ci rivediamo qui per la prova dell'assaggio perché vi aspetta un vero intenditore. Ho già fatto. Pronti? Via. 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 Diciamo che, come dicevo, la pulizia non è stata proprio il massimo, ma intanto io invito il giudice d'eccezione che già avete conosciuto e già conoscete, il mitico Tommaso Starace, l'artista del caffè. Ciao Tommy. Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, gli sfidanti di oggi sono Pasquale Mazzocchi, napoletano doc e Amir Rachmani, che è un napoletano acquisito, quindi sei pronto all'assaggio? Sì, diciamo che sono pronto all'assaggio, ma già come ho visto facendo il caffè e i due ragazzi, sono bravissimi tutti e due. Ma Tommi, ci siamo, vedo delle macchinette fumanti, quindi... Speriamo bene, speriamo che Pasquale... Tommi, io ti lascio all'assaggio. Che vuol dire questo? Non lo dire niente? Non lo dire niente, ma è napoletano, è l'amico. Comunque... Lui è un amante del caffè. Non è corretto. Lui è napoletano, quando lo vede in me... Tommi, io ti lascio all'assaggio. Guarda, ma guarda che servizio deve fare lui. Il servizio deve essere così. Non devi prendere da solo. Ma il giudice deve fare tutto lui, fra? No. Ma certo, no. Il giudice se lo deve assaggiare. Tu mi vuoi offrire due caffè, ho capito. Ma... Tutto c'entra, servizio, pulizia... E poi anche... Certamente c'entra tutto, però Pasquale ha fatto un po' migliore del tuo. Ma spero non l'ha assaggiato ancora. Ancora non l'ha assaggiato, ma già come... È già una truffa, già una truffa. Ho visto la preparazione, capito? Chi c'è esperienza, fra? Il tuo è buono, ma quello di Pasquale è meno... Ciao ragazzi. È giusto, fra, dai. Dai, non te la prendere, fra. Tu sei bravo a bere il caffè. A farlo, no. Dalla fuga di Amir, credo che tu abbia già decretato il vincitore. Che appunto Amir sa bere il caffè, perché io ero fruttigiorni e Pasquale, poi lui beve il caffè, ma lo può anche fare il caffè. Però vedo anche come lo fai. Da buon napoletano si è imparato. Lui viene in cucina, mi guarda, mi scruta, mi ruba il mestiere, capito? Non sei serio. Hai dato il risultato prima di assaggiare la mia? No, il tuo è buono. E quindi, senza ulteriori indugi, direi Tommy, annunciamo il vincitore, che è il nostro Pasquale Mazzocchi. Grazie. Bravo Paco. Grazie. Ciao ragazzi, mi dispiace, ma purtroppo il caffè è il caffè e vince uno solo. L'importante è sempre vincere. L'importante è assaggiarlo. Ciao.